Il vero Svaldo Mowbray giace in una fossa da qualche parte e tu sei solo un inglese che si spaccia per lui. Oppure, seguiamo la mia teoria, ovvero che è stato il più brutto di voi, ovvero saresti stato tu, Joe Gage. Quindi immagino che tu deduca che il caffè sia stato avvelenato mentre tu ammazzavi il povero vecchio. Esatto. Beh, mi negro, amico. Mentre qui avveniva l'incidente, io ero seduto da quella parte della stanza a suonare Silent Night al piano. Non ho detto che tu hai avvelenato il caffè. Ho detto che tu non hai fatto lo stufato. La mia teoria è questa. Tu sei d'accordo con l'uomo che ha avvelenato il caffè. E entrambi avete ammazzato Minnie, Sweet Dave e chiunque abbia scelto questo giorno sfortunato per fare tappa all'Emporio di Minnie. E a un certo punto avevate in mente di tendere un'imboscata a John Root e liberare Daisy. Ma non avevate previsto la bufera. E inoltre non avevate previsto noi due. Sono arrivato fin qua. Come vado? Hai una gran bella immaginazione, negro. Non credi? Allora, hai intenzione di ammazzarmi sulla base di un'improbabile teoria negra? O lo puoi provare, cavron? Ah, guarda che non è così improbabile, signor Bob. Ed è anche qualcosa di più di una teoria. Da quanto tempo hai detto che lavori per Minnie? Quattro mesi. Vedi, se fossi stato qui due anni e mezzo fa sapresti dell'esistenza di un cartello che era affisso sopra il bancone. Minnie non te ne ha mai parlato. No. Vuoi sapere cosa diceva il cartello, signor Bob? Niente cani o messicani in quest'emporio. Minnie affrisse quel cartello il giorno stesso in cui aprì le porte dell'emporio ed è rimasto affisso sopra il bancone ogni santo giorno finché lei stessa non lo tolse più di due anni fa. E sai perché lo tolse? Iniziò ad accettare i cani. Sai, a Minnie piacevano tutti più o meno. Ma se c'era qualcuno che odiava, erano i messicani. Quindi quando dici a me che Minnie se n'è andata al nord a trovare la mamma... Beh, io lo trovo alquanto improbabile. Ma d'accordo? È possibile. Ma quando dici a me che Minnie Mink ha preso il suo emporio, la cosa più preziosa che possiede in tutto il mondo e l'ha lasciato nelle mani di uno stramaledetto messicano? Ecco cosa intendevo nel fianile quando ho detto che questo non è tipico di Minnie. Minnie... Quindi... Ora sì che ti sto chiamando bugiardo, signor Bob. E se tu menti... E tu menti... Allora hai ucciso Minnie... E anche sui dei... Oh, no! Oh, oh! 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 Oh!